Ron Reagan, figlio dell'ex presidente degli Stati Uniti d'America Ronald Reagan e Nancy Davis, si sposerà sabato prossimo 21 luglio ad Arezzo. In comune infatti sono già arrivate le pubblicazioni delle sue nozze con Federica Basagni, una retina. La cerimonia sarà celebrata il prossimo sabato alle 11, ovviamente dell'evento si sta interessando anche l'ambasciata americana Roma. A celebrare le nozze potrebbe essere anche il sindaco di Arezzo in persona, Alessandro Ghinelli, che pur non occupandosi mai di matrimoni, in questo caso potrebbe fare un'eccezione. Ma le nozze potrebbero essere celebrate anche da un consigliere comunale e suo delegato. La notizia dell'evento in terra a retina è trapelata solamente oggi, nonostante la richiesta per il rito civile sia giunta ormai da tempo in comune. Ron Reagan, 60 anni, conduttore radiofonico, presentatore, analista e commentatore politico e Federica, si sarebbero conosciuti qualche anno fa a New York e proprio lì sarebbe sbocciato l'amore.